ricorda le istruzioni ragazzo se rimani senza ossigeno devi dare 64 strattoni alla corda ricevuto cacchio no 63 volte se rimani senza ossigeno 64 se trovi il tesoro ricevuto ehi nonno avrei potuto far parte del pesce diavolo battagliero hai fegato da vendere un comportamento inqualificabile e un'istruzione da quarta elementare potevi anche diventare sergente sessant'uno sessant'due sessant'tre oh no 63 non ha più ossigeno ho condannato il mio unico nipotino a una fine tremenda 64 ho trovato il tesoro sono ricco hai un nipote straingambissima ragazzo ora forziamola e diamoci una bella occhiatina oh si deve essere fulminata la lampadina vi sarei grato se la smetteste di maneggiare il mio botticelli pare che alla fin fine le chiavi non mi servessero quei capolavori li prendo io grazie barnes della malora pigliacca tuo disonore il nome del pesce diavolo ah ma davvero no senti prendi il tesoro se vuoi ma non fermare al ragazzo l'uno e l'altro non si può capolco BIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBIMBUMBIMBIMBIMBULL Sì!